Cresce la paura tra gli abitanti del valo di Diano a seguito dei continui furti che si stanno verificando in molti appartamenti della zona. I cittadini alle prese con questo nuovo fenomeno chiedono maggiore vigilanza da parte delle forze dell'ordine, confidando nella professionalità di carabinieri, polizie, agenti della Guardia di Finanza e vigili urbani, per cercare di recuperare quella serenità che soprattutto le persone più anziane stanno perdendo. In alcuni casi si registrano anche forme di controllo artigianale, con familiari che si danno il turno, soprattutto nelle ore notturne, alla sorreveglianza della propria abitazione e scoraggiare così i malintenzionati. Dopo i furti registrati nelle scorse giornate, soprattutto a Polla e a Sala Consilina, intanto sono aumentate le installazioni di antifurti nelle abitazioni. Ma la paura di essere visitati dai delinquenti sta crescendo, aumentata anche da una fobia che sta coinvolgendo un po' tutti. Dal canto loro le forze dell'ordine hanno aumentato il pattugliamento sull'intero territorio nel tentativo di assicurare la giustizia ai malviventi che stanno procurando terrore tra i cittadini.